Ho un file excel aperto, provo ad aprire il secondo e non mi apre niente. Riprovo e continua a non aprirmi niente. Cosa sta succedendo? Lezione non è neanche basilare, è proprio introduttiva. Non me lo apre perché ho la formula aperta, devo premere invio, fatto e ora il file me lo apre. Tutto qua. Video breve molto semplice spero ti sia utile e noi ci vediamo come al solito sul mio sito masterexcel.it